Questo è il nuovo ferrino Ike Master 28 litri, uno zaino che rappresenta veramente una rivoluzione per la casa torinese. Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. La vediamo subito la rivoluzione di questo Ike Master perché è tutta nello schienale. Infatti troviamo uno schienale con un nuovo sistema Drainet System, uno schienale completamente nuovo. Infatti come possiamo vedere è uno schienale molto distante dalla schiena, veramente ci passa tanto spazio ed è molto areato. Ma soprattutto nella parte centrale dello schienale non c'è nulla, non c'è una retina come siamo sempre stati abituati ed è completamente libero. Questo garantisce una areosità veramente enorme. Vi assicuro che con questo zaino potrete utilizzarlo anche nei giorni estivi più caldi, anche nei cammini a bassa quota più caldi e non avrete problemi di sudore. Soprattutto perché poi tutta la parte di schiuma che va a comporre lo schienale in sé è veramente molto ampia, quindi una schiuma che lascerà ben trapassare tutto il vaporeacquilo che andremo a creare e soprattutto una schiuma che tenderà sicuramente a farci asciugare in fretta. Uno schienale poi che si può pensare magari non essere molto stabile, visto che ha questo enorme buco centrale. Ma Ferrino è andata a stabilizzarlo con uno chassis interno in modo tale da avere comunque uno zaino che anche da pieno non sballonzola. Da questo punto di vista veramente una rivoluzione perché Ferrino è la prima azienda italiana che implementa questo tipo di schienale completamente nuovo. Uno schienale che, come vi dicevo, veramente rivoluzionerà, penso anche nei prossimi anni, tutto quello che è il mondo degli zaini Ferrino e Nonno. Ma le tecnologie nuove non finiscono sullo schienale perché troviamo anche una nuova fascia lombare realizzata con un materiale altamente traspirante. Una fascia lombare che va a garantire un'ottima stabilità e un ottimo scarico del peso. Diciamo che con questo zaino non andrei sopra i 7-8 kg, ma anche perché essendo un 28 litri è davvero dura a pesantirlo più di questi 7-8 kg. Una fascia lombare poi che presenta sia nella parte di destra sia nella parte di sinistra due taschine dove andare a riporre qualche oggetto. Ci sta anche un normalissimo telefono. E poi la chiusura sulla parte anteriore è fatta da una semplice clip che però lavora bene anche a pieno carico. Una fascia lombare che mi ha stupito veramente per la sua traspirabilità ma anche per il suo scarico del peso perché veramente bilancia molto bene questo zaino. Infine la terza grande novità di questo Hike Master sono gli spallacci. Gli spallacci infatti sono realizzati con un nuovo materiale Auxetic. Un materiale che è veramente super traspirante. Un materiale che più andremo a riempire lo zaino più questo tenderà ad espandersi e più ci sarà possibilità che passi aria. Anche da questo punto di vista è veramente molto molto traspirante e soprattutto l'aspetto che più mi piace è che più andremo a caricare questo zaino più gli spallacci tenderanno ad essere larghi. Quindi a darci maggior comfort e ad aumentare la superficie di contatto in modo tale da andare a distribuire meglio il peso. È un materiale che va ad espandersi più lo zaino sarà pesante quindi più andremo a tirare gli spallacci. Infine poi sugli spallacci troviamo naturalmente la classica fascia pettorale da andare a chiudere. È presente anche un classico fischietto in caso per chiedere aiuto. Maggiriamo questo Hike Master e parliamo della parte posteriore iniziando dai due lati. I due lati sono simmetrici quindi ne vediamo solamente uno. Qui troviamo una classica e semplice tasca dove andare a riporre la borraccia. Una classica tasca rete, ci sta una borraccia anche abbastanza grossa. Se avete una borraccia piccola magari ci posso stare dentro anche qualcosa in più. Una tasca comunque che svolge un'ottima funzione e mi piace che la troviamo sia a destra che a sinistra perché così possiamo portare anche materiale in più. Tutta la parte posteriore dello zaino poi è abbastanza semplice essendo un 28 litri. Troviamo molto comodi la possibilità di portare i bastoncini sdoppiati uno a destra e uno a sinistra. Troviamo la possibilità di mettere un helmet holder quindi da poterci portare anche il casco. E infine cosa sempre apprezzata di ferrino è in dotazione da dei nastri che possiamo utilizzare per portare materiale esterno come delle ciaspole oppure magari un qualche materiale sino qualcosa di cui abbiamo bisogno. Poi si vede subito che la chiusura dello zaino è composta da una semplice clip. Non troviamo null'altro, una semplice clip che va a chiudere il cappuccio dello zaino. Cappuccio dello zaino dove troviamo una tasca superiore abbastanza ampia, nel senso di oggetti ce ne stanno abbastanza all'interno. Non troviamo una tasca interna e per quanto riguarda la chiusura in sé della sacca dello zaino anche questa è abbastanza comune. Un cordino da andare a tirare per chiudere lo zaino col cursore per poterlo aprire in modo tale da poter chiudere completamente la nostra sacca dello zaino. Infine per quanto riguarda il comparto d'acqua di questo Ike Master, come vi dicevo possiamo portare due borracce nella parte esterna con la possibilità anche di prenderle in autonomia. All'interno troviamo la possibilità di riporre la sacca idrica con la possibilità di far uscire la plunga sulla parte anteriore ed è dotato anche di un rain cover dato in dotazione con lo zaino. Arrivando infine a parlare di materiali, lui è fatto da un nylon 210D, un nylon abbastanza classico che ha quell'ottimo compromesso tra durabilità e leggerezza. Infatti lui pesa meno di un chilo, siamo sui 960 grammi. Uno zaino che sicuramente vi durerà anche nel tempo, perché comunque parliamo di un nylon abbastanza robusto e almeno che non ci vogliate andare a fare chissà quale attività troppo tecnica, lui sicuramente per dell'escursionismo va più che bene. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Ferrino Hike Master e ne sta andando al prezzo, perché Ferrino lo vende a 150€ sul suo sito ufficiale. Online lo si trova tranquillamente a un prezzo nettamente inferiore. Ve lo consiglio? Sì. Sì perché lui è un nuovo zaino, un nuovo tipo di zaino con un nuovo tipo di schienale. È uno dei primi a arrivare in Italia con questo tipo di schienale, mi piace che questa idea sia stata realizzata da un'azienda italiana e soprattutto veramente è un qualcosa che bisogna provarlo per capire quanto sia più traspirante rispetto a uno zaino tradizionale di cui siamo sempre stati abituati. Con questo tipo di zaino, una volta che avrete scelto questo schienale, sicuramente non tornerete più indietro neanche ai classici schienali tensionati. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stata esorrente e esastiva anche per questa recensione, vi ringrazio alla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!